Ciao amici, oggi parliamo della meditazione e dei suoi benefici. Perché sì, meditare fa bene alla mente e al corpo, ci fa ritrovare la sintonia con noi stessi e con la natura. Bastano 15 minuti al giorno per combattere stress e migliorare l'umore. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Avete mai meditato? Se vi va, raccontatemi la vostra esperienza nei commenti. La meditazione è una pratica che va allenata ed esercitata con costanza, come aiuto a fare nei miei corsi di mindfulness ogni venerdì sera nel mio centro Spazio Solo Salute di Milano. Una ricerca della Michigan State University sui benefici della meditazione ha dimostrato che meditare regolarmente ci farebbe fare meno errori. In che senso? La maggior parte dei nostri errori è dovuta a disattenzione e fretta. La meditazione ci aiuta a concentrarci di più, stare attenti e ricordare meglio. In particolare, la ricerca si è concentrata su un tipo di meditazione, la mindfulness. Questo tipo di meditazione prevede di sedersi in silenzio, respirare con calma, osservare senza giudicare semplicemente tutto ciò che accade a corpo e mente, prestando attenzione alle sensazioni e ai pensieri che passano, senza distrarsi. Le 200 persone coinvolte nello studio hanno meditato per circa 20 minuti, poi sono state sottoposte a un test per valutare la loro risposta agli errori. Dopo la meditazione, il riconoscimento cosciente degli errori era migliorato. Questo dimostra che la meditazione aiuta a essere più presenti e più attenti, aiuta a concentrarsi meglio e restare focalizzati su ciò che si fa. Bello vero? Avete visto amici che è possibile fare meno errori con la meditazione? Per vedere tanti altri video sulla meditazione per la salute e la forma fisica? È facile, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Chi si abbona al canale può scaricare una meditazione guidata da me gratuitamente. Il benessere naturale è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video sulla meditazione, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio! Grazie! Grazie!